Ti devi scrivere Ok, let's go Deidara, ci sei? Mmmmm Deidara, c'è Oh, come? Eh? Anch'io ho mangiato Come ho detto gulag Gulag Deidara, I want Deidara Sacrifice in Scream Because he will boring But your champion for is ok So I want just For Scream For Counter And Jose Alien is my focus Yes, coach So I know you will You can give me all Malphites On every game I like them Ah, ok, ok I play Graves game, ok? Huh? I play Graves Ok But if Gragas open We will pick Gragas And you can play Graves too Ok Hey, we got Gragas mid Yeah, Gragas mid Or Pop Gragas is fine Gragas is super broken I think LOL LOL You guys don't want to see my Gragas mid LOL What not? Special bomb Pantheon, Pantheon, Pantheon Thank you And Zoe And maybe Harry or Jarvan I don't want to see my Gragas mid Thank you I mean, if we pick AP I mean, Harry is... Hard Matrix on Urla I mean, Harry is super broken But other champions I don't think she is so broken I'm just saying Harry Because she is playing Arya real well And a lot Yeah, but I think we... Oh, stop, man, Gragas Oh, fuck What a bit Fuck Fuck I can't play I can't play I can't play So, this time we pick Grids and mid AP, ok? Yeah, ok And I think Apellius is ok, just keep playing Apellius Yes, yes, yes Go, go LOL So... I can't play Gids and mid AP I don't... I don't see the difference between his Apellius and the other Apellius at Master I think... I think he's a solid 7 7 He needs more, for sure I mean, if he knows more details, he will be more comfortable But I'm feeling he is not really comfortable for fights Ok? So, that's why Fuck I don't know, let them ban us Nice, Coach, we don't need ban Oh, yeah, I like it Swag on, huh? What do they play? Rakhan? Ah, Rakhan Jinx just played Maybe they will go Rakhan style this time Yeah, Jaya, but Rakhan Jaya is bad for Apellius too Ok Do you want me to play Thresh again? I don't know, I will pick Apellius and Greaves This time, we can pick Lulu, but let's see what enemy pick Oh my god Oh no But it's bad for Rakhan Thresh is bad versus Rakhan, you know? That's Alistar Thresh or Alistar Yeah, but... But you need to know if they pick Jaroban Ok? So... If you pick Alistar If they pick Jaroban Apellius will be angry Oh... Jiggs I think Jiggs is ADC I think Jiggs is ADC too Yeah, it's counter to Apellius Yeah, yeah, yeah But this time you go over here with BT Yes, 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 yes Yes, yes, yes Yes, 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 yes Yes, 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 yes Yes, 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 yes And they go over here I don't know how that sound came out I'm cutting my head oh ciao oh ciao can we have f? chin zhao is fake i think ziggs as well ff please all right coach maybe jana oh jana is good here but i don't know you can't pressure two ziggs this is problem i can't pressure what do you think here? i prefer trash a little bit ok but when you said jana my body my body was good yeah but jana is not good to poke i think my jana is different i mean jana is a disengaged champion so okay i want to ban some disengaged champion for here i don't know i will ban ari here okay okay he's also seen a disengaged champion yeah cindra i think they will pick ad mid no? ah good idea but what can she play ad mid? she's really good no let her pick don't ban irelia don't ban irelia don't ban irelia but you have to pick first yeah but i don't don't worry don't ban irelia trust me ban if you want ban uh 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 yeah because uh i want uh i don't want they pick uh top 80 from champion all right i got something in my mind okay in my mouth no that's true so here in my opinion cion top okay they can't pick oran they can't pick oran they can't pick oran they can't pick zion mal fight coach uh you pick last pick okay but maybe they take it but we have full ad no i mean i mean if they pick mal fight we pick sinus but i think it was better mal fight no? so it was like uh flexible i mean they can't pick ap top so i mean if you have thion counter it's chogas and guen okay but if they pick guen and chogas fucking play p there yeah and then they have to go d mid but d mid their small fight so okay oh can we play stylus? we can how is your stylus i never saw it uh i used to play this like months ago if you want you can die but i'm not bad i just didn't play for a while oh they picked okay they destroyed us they destroyed us okay we blame coach for lose guys for me here Rize Talia Rize is gone Talia he doesn't play Talia so what do you want? Kassadi GG oh Kassadi what the fuck Kassadi is astro bad against them i mean just to cast why astro bad Victor maybe Victor 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 is good yeah 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 but i mean just what do you want Kassadi or Victor just play this fucking Victor Victor okay ah thanks god the giga chat coach oh yeah i wanted to play Malphite oh i don't want to play this he told him some people go immortal into infinity as well i don't know yeah 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 infinity is good i think immortal into infinity or immortal collector infinity your choice if you grow well you fucking second infinity if you go wrong if you go wrong no wrong yeah full tank yeah full tank yeah how do we play this draft coach she never tell us what to do i'll do i'll do i'll do okay let me explain so this bro Giggs will try to fuck Apeleus but if Apeleus get vt even Giggs pre damage Apeleus always pull hp because of fucking shit okay so you can win i think you can win but okay i like this one is teamfight like Giggs can fuck Victor or Apeleus as well but anyway they have to engage or they have to poke so for me just just you play for Apeleus and Victor these times pre win no okay i mean front kill we are more faster than them front to back okay coach if i do pentakill with Victor do you buy me a skin? why can't you be Riot's partner? no skater i think yeah true but where is my partner? bro ask for it i will buy for you everything is what you want i can buy for you Korea come to korea airplane do we have Pryo? where are you? you buy me a Korean? yeah ok i will buy for you Apeleus ok ok ehm dovrei even bot avete priorita o no bot? yes bye bye full Pryo fino al Lost Chapter mid dipende se max ha Q per dare Pryo o si tiene W max xinzhao probabilmente proverà a fare qualcosa in early game ma penso solo mid-bosser proverà forse più mid eh io metto la wall proprio quello che vuoi i 2 mid secondo me li perdiamo no? che dici tu eh? secondo me li vinciamo King bro dici? mh 2v2 mid secondo me sono leggermente sopra loro per se eh ziggs andrà a Leandri secondo voi? perchè io vado a Upstail se no? si comunque gold xinzhao giocherà attorno a mid 100-100 ma sono full up e non so che build farm coach do I go Jack Shaw coach? coach sickness allora io faccio sort of top set comunque faccio red golems raptors eh che loro verso bot xinzhao probabilmente o start a top e va verso bot o comunque start a red e fa qualcosa I do you think I should ehm mi faccio la beast o mi faccio la force of nature? eh beh non abbiamo tantissima più in squadra no beh Victor basta avanza boss massimo è la beast al se proprio almeno riducere il senso che vado 1 o 2 eh eh statoria capo ok capo io ti metterò ti metterò la war qui dopo alien va bene se lo puciamo per bene cresciamo la terza bot bot top ha pullato top ha pullato lo so po' le xinzhao 2 mica robo top ha pullato dici? penso che abbia pullato top eh 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 facci golem se dopo ti copro qui comunque potrebbe anche guardare per un gunk a level 3 xinzhao in mid dopo il blue buff tipo infatti in mid hai detto si si non esiste che farmano questi sicuramente devi far male di culo cioè si da boss? si da bot side? ma mi sai che è stato non ho visto mi pare che ha fatto red 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 top ed evabile se ci sei eh non ha flash vabbè dai mid ti arrivo? sono mid sono mid eh dai posso flashare per eh vinciamo no qui così si 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 che top ha tippato eh ok 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 adesso ti torno no il torno no mate come top mate posso lasciare? si 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 ok back to back non toccarlo vai io voglio stare attaccato ah arriva eh in zai qui reset vengo mid alien ok sono su xin se vuoi no vabbè oh ho poco ok io vedo di beccare oh mi metto qua sono qua sono qua sono qua sono qua puoi fightare puoi fightare sono qua baitali 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 se vuoi la calma di in 5 secondi ok il becco è tipo top arcane ok arcane mid aiuti sai sai oh fuck ho dovuto flashare eh ok no ho flash raccano ok eh non posso farlo questo tipato top anche zix c'è anche zix c'è anche zix cos'è ecocinazione ho xin qua san fai tara torno arrivo è morto eh è la sai la sai la sai la sai la sai c'è il grab c'è il grab ha presciato cinzao e sotto c'è sta succedendo a sto game non lo so boss non mi sa crescendo il cervello tipo io ma e non possono pusharla quello non io sono qui richiede io flash dentro io flash dentro ragazzi flash dentro arrivo flash dentro non hanno flash nessuno di loro eh ma ma non lo so waave eh arrivo verso di loro arrivo verso di loro arrivo li chiudo li chiudo li chiudo li chiudo li chiudo No, non vanno out Oh, vanno tutti verso top set Ragazzi Non hanno flash, eh? Vabbè, io non seguire più, mate All'interno Cliccala, cliccala Posso fare questo? Sì, 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 poi Come va, bots? Ok, crash 4 wave for Paul Io faccio il blue buff E dopo vado verso bots Roba strana Ma non stanno trollando qui i demon? Ancora Rakan ho flash, Rakan ho flash Guarda Rakan Io muoio, io muoio, eh? Io muoio, io muoio Vfight, vfight Vabbè, bravo, dov'è? Ma ti scusi Ma io giuro, sono mento Non capisco Me l'ho preso apposta? Eh, mette, io non faccio niente lì, eh C'è una cappia Ma che è? Non lo so Non lo so It's ok, è come se fosse un team turco È un average scream in Turchia, questo Ok Mi ha andato a fare i miei campi in top set, quel tipo? Che cosa sta facendo? Mi dive Sì, 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 oh, arriva, 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 arriva Posso ruotare Ha trollato l'Igliane, però No? Sì Nice Posso ruotare, se non becco Non ha flash Ah, boi C'erano io Eh, vabbè, ma C'erano io Ma sono stai Rakan Sfai, fai, fai Sono C'è pure Un becco Con calma, ragazzi Non dobbiamo che lo fia stare anche noi, eh? Lo so che è strano Eh, ho fatto top set, giungla Eh, dopo vediamo Il lanterno, però, sì Oh, ma che cazzo È bene, cazzo Non lo so E qui c'è qui Io vorrei Basta, ma rotto Basta, basta Non lo so C'è che la carne Non le vane, veramente È disperato C'è, lasciatelo, fai Oh, che c'è male Ah, lanterna, giacomino Sto, ma No, ping Ma Pensionarlo, parola Non ci serve Comunque, solo con sta roba Ok, qui Eh, a fare Sono il mio letto Ma vedi, per certe robe Mi fa andar Mentre al boom Ci faccio proprio Te lo stanno E l'ammazza È la tecnica Per vincere Rakan E con La clean Mi ha fatto Mi sta Mi ha fatto Possono grabare Il mine E poi Devo ingaggiarlo C'è la clean Capito Grabo il mio E poi ti faccio La lantenne Eh, potrei po' Cancarti mid dopo Eh, boss Eh, tanto Devo Devo smettere Di saper giocare Per giocare Sto partito Ma non mi dà Ma che roba Ah Provine Paolo mid Paolo mid Paolo mid Arriva Ma sono a ritardo Rakan Rakan Mi chiude Se per me è inutile Che provate a A tirare Come si chiama A zonare ziggs Sai in mappa E via Rom e basta Ok Ci sta Ci ho pensato pure io Sai Io crescio questo Io sto ricollando Rakan Potrebbe essere qui Ho l'antenne Eh, Rakan Sono tu Giungo non per drag Gio con questi Posso muovermi dalla base Ho preso un sacco di tempo Dal Con il proxy Finse se lo può fare Solo Sì Però posso venire Cioè nel senso È in Arriva 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 Ok Vuoi venire qua Sei sicuro Non parli troppo No, torno top No, no, no Se venivo subito o no Però adesso non parlo Vedo se c'è il red buff Questa è la wave Che arriverà Capito Cioè sono perfettamente on time Vabbè comunque Continuano a permagancare Mid loro Eh E il drago In due Come ti sembra Con loro Dovrebbe essere Messa mal Fai Attento Mi Attento Mi Ho L'armi Pure è giusto Vai Vengo Vesso Vengo Stavendo anche io Il drake Stavendo O lo fate da solo Proprio Vabbè Penso che non arrivi In tempo Questa La lanterna Vabbè forse non serve La lanterna Sì sì non serve Non serve Non serve Buono Che sfiga Ok ho l'ultimo Sinzao mi sa che sta farmando un po' Vuoi stare attorno a mid Paolo qui? Sì I 3v3 come sono adesso in mid? Ci sono eh Ho flash l'antena del server Arrivo mid posso ultare? Ci metto un po' High the back High the back Mal fight sta tippando Mal fight sta tippando Lasciuo e va Arrivo Vonder auto Vonder auto Flash xin Vix è lì eh? Dimmo un po' Niente No no Ok Giocavano per Erald Problem Sì Io appiamolo in caso No vabbè sì sì L'erald di che va pari Faccio boss dai campi E via mi sa Possiamo forse killare bot Dimo Andiamo Loro sono topside all'era probabilmente Sì comunque non vinciamo i fight Potrebbe ultare mid mal fight Guardo per il resto guardando E sono ancora topside forse quelli Raga ne è qua Ok Io ho un bel posizionamento per la Kanna Non abbiamo anche i 3v3 li perdiamo La Kanna W Guarda che può morire da vertizia Buona palo Buona palo Faccio i suoi rappersi Non l'avevo visto ragazze counter Becco è tipo top Io sono huge compare to mal fight ragazzi Voto arstel subito G si muove Qua c'ho Adesso Io c'è morto al silvo 3-3 Ksenzao o botse è tutto ok top Io mi sa che faccio i campi in topside Eh botside non mi posso neancare No no sono fine Ce la wave qua Sono mid Arrivo mid Mal fight still miss Al flash al flash Non so Morto morto Eh Ksenzao era botside E qua ecco qua Clear Puoi pushare mid forse Non c'è Ksenzao Poi ho preso topside jungle E alza il tp Sala sono No no Io faccio il capo A breve ho il 6 Ah vogliono tele del boss Dovevo fare Exit da bots Siete a posto Le boss Ed o no? Eh Però lo provavamo a divare Possiamo giocare Se qualcuno ci vuole Le boss Possiamo divare top Possiamo divare top Guarda è molto low Prossima wave Io ho la ulti Pulisco la prossima wave E proviamo a divare Non fate far troppa Non fate far troppa Ok Ma comunque ho fatto Un di ottenere la camp Qua in topside Ho fatto tutta la topside Sala si ha pushato mid Vieni 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 Tanco io Tanco io Sto arrivando Sala Stop Arriva a botta a divare Sala Sì c'è un sacco di fear Tanco 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 Sto muovendo io ragazzi Di stop Di stop È bot È bot Ha il tp però Non facciamo E' a prenderla No penso di no 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 Questi muoiono tutti Con un buon Eddie Victor Ok Io prendo la wave mate Io beh ecco qua Non possono passare Ok Tancano Ringe Buono Buono Non abbiamo la ultima Ferris purtroppo Eh Cosa devo fare? Va bene Va bene Va bene Va bene E cosa giochiamo Cioè drago in un minuto Sì sì faccio Cleo topside Vado verso il drake Raga io per adesso Continuo a giocare Tra virgolette side Da solo Perché diventerò huge E prendo un sacco di pressure Sono a 4 playing spray Si già Sto diventando enorme Ma Alien da 0-5 4-5 300 gold Ragazzi il mid gap Is real Ok comunque Aspettatemi che faccio La clear in topside Giungla Dopo standetro mid E ci sono Paolo Non muoio qui Metto una ward Ma non muoio Comunque l'importante è che stiamo dietro mid Ti guardo in l'antenna anche Alien Io faccio red raptor Se ci sono a faietare Dove essere abbastanza grosso Con il shield Forse ti va male questa Io ho 2k goal Ah vuoi ricollare Vabbè ricollare Sì 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 Recolla Arriva Rakan mi leva da ward Solo quella Però Forse io potrei Scobbare una contro Grande Alien Grande No questa è la mia contro Paolo difendi La lancio soldi Allora Midway ve lascia la paolo Prendiamo a prendere bot Prao qui Ok Tanto un mid Non può prendere Tanto pensano che ci sia Graevis Tra come sto giocando Un giorno Non puoi andare bot Paolo Sì Io arrivo ragazzi Prende sto per E siccome xin è qui Ragazzi Sì Guardate sai La solo chiudiamo ragazzi In una flash Siamo deboli Non facciamo Un shot Arrivo Faccio male Ragazzi One shot Grabo All'alterni del serve Fa gridere Fa gridere Ricopro Un po' Ma il fight miss Non so c'è il tp Voglio la bot Io becco arrivo Ragazzi Pusha la bot Pusha la bot Io c'ho tp ragazzi C'ho tp Puscia la bot E' gratis Sì 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 Mi piace Vanno meet l'oro Cosa fanno Io c'ho tp Ma mid Cane Ma no No c'è tp Vado Vado a difendere mid Torro top Allora Arrivo mid Anch'io Servo Sì servo Lanterna 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 Come giocano Il mio cervello Non ce la fa Non ce la fa Ve lo giuro Salas e bot Dov'è Salas e bot E solo Vinco 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 A tuo punto Facciamo tor Dove è malfight? Malfight miss Malfight miss Anche la ultima A tanti malfight miss 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 Anche la canza Intanto la canza Intanto la canza Non ha la r Rack Non ha l'ho più pura Can Comunque c'è malfight qui Eh Potrebbe non è Non è detto che ci sia Non vogliamo Fra drago drake Vabbè non the way out Diciamo a farlo Forse è leggermente Dobbiamo Che va a parer Al sicuro Stiamo allantare Serve Spero abbiamo buone armi Abbiamolo One shot down Io griddo Correre call Ho fatto un paio Di campi Così sono Infinity edge Ci sta Becco Becco Faccio i raptors E dopo Vado a fare i miei campi Ho fatto un botto Per non la difendertava Sono top Occhio top Sono tutti top Magari Siamo a ritardo Mid Difendiamo Posso ultare Posso ultare dalla top Non ha flash Ziggs Non sbaglio Ho facciato Prima Arriva arrivo Penso di ulto Penso di ulto Penso di ulto Faitiamo 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 Arrivo Siamo Sono tp Arrivo Guarda Arrivo Arrivo Uno muore Arrivo L'antenne 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 Faitiamo qui Ma che fai 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 Voglio Voglio Xinzao Voglio Xinzao Xinzao Se è possibile E l'altro La di carry Vabbè avete capito E Raldo E non andiamo tutti Le Raldo Se è possibile È molto chiara E vabbè hanno sbagliato tutto Cioè a livello esecutivo Ma l'idea era quella Quindi ci sta Andiamo Ricordo Vai Lock it Poi sono Huge Io comunque se vado All breaker posso prendergli le tori Davanti agli occhi Però non è Non è l'obiettivo Ci sta Che si vado Full tank Normale Io sono Huge Cioè Barone in un minuto e 40 È veloce No Cioè Mica Victor Raffaele Grisos Io ragazzi Faccio una E faccio Mille di danno Quasi Allora Giociamo Minuto 30 Pusciamo sta wave mid Ma siccome Allora mate Pusciamo sta wave mid E prendiamo vision qui Io ho la move Ora Malphite avrà la move Quindi attenti Ma adesso mi muovo per qui Sto già prendendo Prio top Deve essere Un red veloce Puscia queste Vieni verso mid Victor Andiamo mid Non c'è l'adk Su questa rotazione King Missa Malphite Ok sono sulla top E devono matcharmi Se viene a matcharmi Ok Ok Ho io poi Sei bombardato qui sotto Vado a prendere la miltra E mi sta E dopo Oh Ok top side Io ho la quest Con un minuto Non mi possono ammazzare Prendo tempo Meglio sink C'abbiamo anche la dkk adesso Posso freshare Posso freshare Senza ho top Sai l'assoluta mid Sai l'assoluta mid Senza ho E qua Malphite arriva Malphite arriva Malphite arriva Malphite arriva Malphite arriva Mi sono un po' hypato Devono matchare top di nuovo Bot cade Sì sì Vado Venite anche voi Penso Facciamo bot tower Recolliamo Devo un usher Dai La finiamo No Sì sì Tank tank Allora lo facciamo Intanto non ti kill Può venire nessuno Unico è top Che può morire Vengono in tre Penso che mi faccio Perdete Prendete Pushate Vengono tutti top Lanterna Ok sì 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 fa in tempo Minchia sì Ma mi sa che me li faccio Entrante Ma io perché sto scappando Anche io pensavo fossero ulti di Jinx Tardas qua Voglio guardare la felia se è possibile Go Ha flashato la canna Chi ha te ha flashato la canna? Minchia sì Ma Baron subito Baron subito C'è le armi C'è le armi C'è le armi Ok famolo famolo Ragazzi io faccio solo una Q Ok? Ho mana solo per una Q Però è good Mi metto qua Sto su una pink Nel caso prendo C'è quello Ok no Meglio ancora Ok Turniamo attenti alla mia Q Alien ma sei un bastardo Dobbiamo solo uccitare Ah sì Un po' di arbetta Beh no Però sto champion è broken Domanda Ricolliamo O gridiamo per il Drake Mamma mia Io posso stare Io posso stare Trash Come è Trash Recolla Chi deve recolare Io posso ultare Io posso ultare Già Io recollo Com'è io sempre Posso stopparle E rimango Rimango Ho poco mana Ma ne ho Questa è l'unica Dove possiamo davvero perdere Eh minchia Arrivo Arrivo Vabbè Aspettando Noi hanno saltato ancora Le al di far Che schifo Che fa Mamma mia È veramente disgustoso Eh Cos'è come vuole ultare Abbiamo Andò mollato il Drake Ma sta Malphite Ti guardo Ti guardo in l'antenne Malphite ultimate Ok Ho Ziggs 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 Fai siamo qui Ziggs Io sono su Ziggs Prendo l'hunter Prendo l'hunter Piliamo 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 BQ BQ Poi dopo Sinzaus è possibile Andiamo su sto Ziggs Lo slowi In qualche maniera Slowato Peccato Ce l'hai davvero vicino Eh sì Ti ha fatto labbiare Ragazzi Giochiamo più Sion È veramente sbroccato Sto schifo Eh Sion è morto Ma quello Givi bene bro No no C'ho il 7 Cioè non è che non l'ho Cioè Grazie Paolo One trick Zion No no Cioè vabbè L'ho giocato un po' No facciamo i pazzi Eh Un po' pazzi Posso beccare Ti pare Guardami 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 No ragazzi ci vuoi Eh no però Allora Scusatemi Tutti O moriamo tutti O non muore nessuno Oh vieni 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 Io mi li faccio tutti eh Vieni vieni Portameli qua che ce la volti Portameli qua Oh costo portami qua Facci tu Porto due Vabbè Ok Ogni fa gioca A volte gioca a metà Don't gear Cazzo Dovremmo fare le mot Cazzo Portameli Manco ci avessi Blitz Cazzo No Se tu vuoi indietro Quelli vengono Siete Oh No Devo morire Dimono Dimono No Non morire Dimono Però lì All'olio Dimono Un'attimo confuso Eh ma quando Sciutcoli per tutti Mi si sciutcolare pure per te Bro Bravi ragazzi Mi sto divertendo Avete fatto gli egiziani Non carino questo Verso dopo quello che ho detto Che cos'hai detto? Eh gli egiziani Ah vabbè io stavo invitando sia un player Top damage Top damage Stupidi Eh vabbè Dio Cristo Sei sempre in mezzo a 5 persone Porco Dio Facendo proxy È un po' forte Eh grazie brother Hey guys 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 Focus Focus Sei sempre in mezzo a 12 E ci sono Usa Fanno A